Dopo tre mesi di stop, ritorna la Coppa Italia Team Cup con un'interessante sfida allo stadio Silvio Piola di Scena l'incontro Novara-Pisa, gara valida per il quarto turno della manifestazione tricolore.La formazione piemontese milita nel girone A di Serie C ed occupa la nona posizione nelle precedenti sfide di Coppa Italia. Gli uomini del tecnico William Viali hanno battuto il Perugia in trasferta con un perentorio 3-1 e il Brescia che invece si è arresto solamente ai rigori.Cammino leggermente più lungo per il Pisa, che invece ha dovuto sconfiggere prima la Triantina e la Cremonese ai calci di rigori, poi il Parma ha sorpresa con un successo di misura per 1-0. Per ottenere così il pass per accedere ai sedicesimi di finale.In palio la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, con la possibilità di sfidare la Lazio che invece si è qualificata di diritto alla fase finale.Novara-Pisa streaming gratis e diretta TV Oggi 5 dicembre l'incontro Novara-Pisa sarà visibile sulle reti Rai, che ha acquisito i diritti per trasmettere gli incontri di Team Cup, su Rai Sport, Canale 58, disponibile anche in HD al Canale 57 La gara del Silvio Piola sarà irradiata in diretta a partire dalle ore 14.30, con ampio pre-post partita.La telecronaca di Italia-Polonia sarà affidata a Giuseppe Galati, che sarà coaudiuvato da Mario Somma per il commento tecnico. Gli interventi da bordo campo e le interviste a fine gara saranno curate da Angelo Oliveto.Il match sarà visibile anche in mobilità, in live streaming gratis attraverso il sito web ufficiale di RaiPlay, cliccando nel menu in alto a sinistra e selezionando la voce diretta. La stessa emittente mette a disposizione degli utenti anche l'omonima applicazione, disponibile per smartphone e tablet e scaricabile attraverso i principali market store.Probabili formazioni Novara-Pisa per la sfida contro i Toscani Il tecnico William Biali dovrebbe schierare un 4-3-2-1 tra i pali spazio a Benedettini, linea difensiva composta da Tartaglia e Bove centrali, con Cinaglia a destra e Chiosa a sinistra. Fonseca agirà da mediano, mentre gli esterni saranno Nardi e Sciaudone. In avanti il tandem Cattaneo e Peralta a sostegno dell'unica punta Gaccia.Il tecnico del Pisa d'Angelo dovrebbe opporre un 3-5-2 con Gori tra i pali, difesa composta da Brignani centrale, mentre Maroni e Gliotti terzini. A centrocampo Cuppone, Gascere e Marin, mentre Zammarini e Lisi saranno gli esterni. Fandemo offensivo composto da Marconi e Masucci.Novara 4-3-2-1 Benedettini, Cinaglia, Tartaglia, Bove, Chiosa, Nardi, Fonseca, Sciaudone, Cattaneo, Peralta, Cacia.Pisa 3-5-2 Gori, Veroni, Brignani, Gliotti, Zammarini, Cuppone, Gucker, Marin, Lisi, Marconi, Masucci.La gara Novara-Pisa. In programma domani alle 15,00, valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Sarà diretta dal signor Lorenzo Iluzzi di Molfetta che sarà coadiuvato dagli assistenti signori Bresens di Bergamo e affatato della sezione Vogue. Il quarto uomo sarà Serra di Torino pic.twitter.com barra Gazeb 65, Novara Calcio 1908 Chiocciola Novara Can nel December 4, 2018.